Il Torregrotta ha chiamato a rispondere nel derby contro il Barcellona al successo del sabato del città di Sant'Agata. Prima dell'inizio il doveroso tributo del minuto di raccoglimento alla memoria di Salvuccio Rao, tecnico recentemente scomparso e nel passato allenatore anche del Torregrotta. Si comincia con il Torregrotta che prova subito a far male il tacco di Rasa per il tentativo poi ribattuto dalla retroguardia del Barcellona. Un Barcellona che ci prova in avanti con il tiro controllato dal portiere Vinci che poi sarà uno dei protagonisti. Il colpo di testa era di Alizi, poi da lontanissimo il gran tiro di Mento e ancora la parata di Vinci. Rasa ancora il suo tacco, l'inserimento da dietro di Mento, l'inserimento da parte di Maisano e para con i piedi Ficarra. Il Torregrotta che spinge la palla in mezzo, l'uscita a voto di Ficarra in qualche modo la retroguardia del Barcellona che libera ma il Torregrotta resta lì. La palla nuovamente in aria di rigore e Rasa in scivolata che al ventitresimo sblocca il risultato 1-0. Rivediamo, tutto è nato dal primo errore della difesa, poi la palla buttata nella mischia e Rasa che in acrobazia batte Ficarra che ci è apparso piuttosto indeciso in questa circostanza. Qui c'è un fallo di mano che rivediamo al rallent, ci sono state le proteste dei giocatori del Torregrotta, il rigore neutralizzato da Vinci sul tiro di Chiappone. Si chiude così il primo tempo con il Torregrotta che dunque si salva da questo penalty grazie al suo portiere Vinci. Il Barcellona riparte forte con il tentativo di Pugliafito che si libera bene il triangolo e poi la mira non è delle migliori. Dall'altra parte ci prova il Torregrotta, il tiro di poco alto sulla traversa mentre in qualche modo Calabrese dopo il tentativo di rovesciata del compagno la palla in calcio d'angolo. Calcio di punizione dal limite su fallo ai danni di Rasa e cartellino rosso per Chilleri al settantatresimo. Il Barcellona rimane in dieci uomini, poi fa tutto bene Bertino tranne il tiro in allungo si salva il portiere Ficarra. Dall'altra parte ci prova Castagnolo, il suo offendente, si spegne alto sulla traversa, poi un'azione piuttosto confusa con Rasa che per poco non ne approfitta in area di rigore. Prima del trepice fischio, questo tentativo ancora da lontano da parte di Pugliafito, poi il calcio di rigore che chiude il match, il fallo da parte di Sottile dal dischetto Rasa. Non può sbagliare e all'ottantanovesimo fa 2 a 0 e manda i titoli di coda dell'incontro. Il Torregrotta dunque continua nell'inseguimento alla città di Sant'Agata, una sfida che sta appassionando tutti i tifosi, compresi ovviamente delle due formazioni. Il Torregrotta dunque continua nell'inseguimento alla città di Sant'Agata, una sfida che sta appassionando tutti i tifosi, compresi ovviamente della città di Sant'Agata, una sfida che sta appassionando tutti i tifosi, compresi ovviamente delle due formazioni.